Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 171esima puntata del podcast di Marcos Box. Anche questa è una puntata video, come potete vedere dal mio bel faccino, se mi seguite su YouTube. In questa puntata parleremo di tante notizie interessanti e parleremo soprattutto di una notizia che stavate aspettando ormai da tutti quanti da diverso tempo, ovvero del rilascio di KDE Plasma 6 e di tutto il QQSAR, quindi anche KDE Gear e KDE Framework. C'è stato finalmente il rilascio a fine mese di febbraio e possiamo finalmente testarlo e installarlo sulle nostre distribuzioni. Vi consiglio soprattutto poi di magari di testarlo in prima battuta su KDE Neon, perché su KDE Neon hanno già aggiornato i repository e quindi hanno già rilasciato poi la nuova ISO aggiornata, quindi non dovete stare a scaricare niente. Fortunatamente sono stati anche risolti i problemi dei primi minuti, quindi potete utilizzare. È stata approvata da Marcos Box. Ma iniziamo questa puntata, apriamo la puntata parlando di una notizia che non riguarda il software libero open source, ma riguarda un problema di fiducia violata da parte degli utenti a seguito di una inchiesta svolta dalla Federal Trade Commission americana che ha scoperto che Avast Antivirus vendeva i dati di navigazione degli utenti. La scoperta è stata fatta appunto dalla Federal Trade Commission americana che ha indagato su Avast Limited, della società che sviluppa Avast Antivirus, e si è scoperto che per diverso tempo, vi faccio vedere qui che praticamente sono stati dal 2014 al 2020, gli utenti di Avast Antivirus che installavano l'estensione per il browser web, che doveva servire sulla carta a migliorare la sicurezza degli utenti durante la navigazione, in realtà non faceva altro che raccogliere dati in sicurezza degli utenti, raccogliere dati di navigazione, e questi dati sono stati poi venduti a società di pubblicità, a società di marketing e società di analisi dati e broker date. Quindi una grave violazione della fiducia da parte degli utenti che non sapevano che i propri dati venivano messi alla merce di tali aziende. Ed è una cosa che onestamente non mi aspettavo da Avast, perché Avast è uno degli antivirus più raccomandati da parte degli utenti. Molti utenti dicono, sì, sì, è stata di Avast che è un buon antivirus gratuito. Il fatto sta che hanno frodato gli utenti in questa maniera, passatemi il termine. E sull'articolo che trovate sulle pagine di Marcosbox trovate maggiori informazioni sulla vicenda, dove viene ricostruito il tutto, come funzionava, come è funzionata, diciamo così, questa... questa... non voglio utilizzare termini che potrebbero costarmi eventuali denunci, vabbè, avete capito. È una cosa brutta che è stata fatta da parte di Avast. E che dire, io in questo... per via di questa cosa penso sempre di più che bisogna cercare di affidarci a professionisti nella gestione dei dati, professionisti che cercano di trattare la nostra privacy in maniera efficace. E chi tratta la nostra privacy in maniera efficace? Beh, NordVPN, che è anche lo sponsor di questa puntata, ma è lo sponsor di Marcosbox perché da qualche tempo, che... sapete bene come funziona NordVPN. NordVPN è una delle migliori VPN che esistono sul mercato, non traccia gli utenti, è una politica zero log e di fatto è quella più consigliata per chi vuole avere il massimo della sicurezza e anche il massimo di prestazioni perché NordVPN, oltre ad essere una delle più sicure, è anche una delle più veloci. Durante la navigazione con NordVPN praticamente non vi accorgete di rallentamenti di sorta, e quindi io ve la consiglio, non soltanto perché è una raccomandazione da parte del blog che è un partner, ma ve la consiglio perché utilizzo NordVPN ormai da diverso tempo, ho provato diverse VPN nel corso degli anni e NordVPN è sicuramente la migliore, quella che non vi fa rimpiangere l'utilizzo di una VPN, perché molto spesso con le VPN gratuiti vi trovate anche con velocità casata e poi sapete bene se un prodotto è gratuito, in realtà il prodotto siete voi, quindi affidatevi ai professionisti. In questo periodo c'è anche un interessante sconto a cui potete usufruire utilizzando il mio link referral che trovate poi linkato in descrizione a questa puntata, e compreranno il NordVPN e grazie a questa promozione otterrete il 63% di sconto su NordVPN più tre mesi gratis per un amico, quindi fateci un pensierino se avete bisogno di una VPN. Ma cambiamo adesso argomento e passiamo ad un'altra notizia che non c'entra molto con il software libero open source, ma che ho già tenuto a postare perché è uno dei miei giochi preferiti, perché finalmente con Cerned Ape, che è lo sviluppatore di Stradio Valley, ha annunciato che il rilascio della versione 1.6 di Stradio Valley è ormai in dirittura derivo. Arriverà il prossimo 19 marzo e successivamente avranno aggiornate le versioni per console mobile. Perché vi parlo di Stradio Valley? Perché è un gioco che è il quale gioco oramai da diverso tempo, l'ho acquistato sia per Steam, su Steam, che l'ho acquistato anche per Android. Adesso non ci posso nemmeno giocare più per Android, perché il problema è il telefonino, vabbè. Ma poi vi dirò perché non posso giocare più nemmeno a questo gioco su Android, dovrò vedere se di ricomprarlo anche per l'altra piattaforma. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E se siete, come me, in attesa di questa nuova versione, preparatevi, preparatevi, perché sembra una buona versione, con tante novità interessanti che daranno un po' di brio a questo gioco. È un gioco che poi, ci tengo anche a sottolineare, funziona con Steam, quindi lo potete utilizzare anche con Linux. E passiamo adesso a un'altra notizia, sempre, restando in tema gaming, riguardante una causa che è stata avviata da parte di Nintendo nei confronti degli disoccupatori di Yuzu. C'è il famoso adagio che cita sempre il nostro... Chi segue, come si chiama, Player Inside, sa benissimo la citazione che non si fotte con Nintendo, effettivamente Nintendo adesso ha deciso di bloccare lo sviluppo di Yuzu, di fatto, e di tappare le aree anche da tutti quanti gli altri emulatori per Nintendo Switch. Nintendo ha citato, infatti, in giudizio i creatori di Yuzu, il noto e apprezzato emulatore open source di Nintendo Switch. Secondo quanto riportato dai media internazionali, la causa intentata contro Tropikaze, la società che produce Yuzu, è stata depositata lo scorso lunedì presso i tribunali di Rhode Island negli Stati Uniti. Nintendo ha sostenuto che Yuzu esegue dei codici che vanno a sconfiggere le misure di sicurezza di Nintendo, in cui sarà decritazione utilizzando una copia Product Case ottenuta illegalmente. Se bazzicate un po' il mondo degli emulatori sapete a che cosa ci si riferisce. Che dire, è una botta che è davvero importante, perché di sicuro tapperà le aree, causerà problemi finanziari e interromperà lo sviluppo di Yuzu e darà anche problemi a tutti quanti gli altri emulatori. Anche se sappiamo bene come funziona, il mondo dell'emulazione, tutto quello che è ruoto attorno a questi contenuti, diciamo così, pseudo-legali, è un mondo particolare. Funziona come un Hydra, tagliato una testa ne nascono subito altre. E quindi probabilmente nel primo periodo ci sarà un assestamento, ma poi fra qualche mese emergerà qualche altro player pronto a girare diversamente le restrizioni e camperà fino a quando non verrà sanzionato nuovamente anche da Nintendo. Ma, che dire, mi dispiace per Yuzu. Non che io emu i giochi per Nintendo Switch, anzi, sono un sostenitore di Nintendo e ho regalato a tutti quanti i nipotini. Vabbè. Passiamo adesso alle notizie riguardanti i rilasci delle distribuzioni Linux. C'è stato il rilascio di Tiles 6.0. Tiles è la distribuzione GNU Linux, pensata per preservare la sicurezza e l'anonimato dei suoi utilizzatori. E c'è stato il rilascio della versione 6.0, che è la prima versione di Tiles basata su Debian 12 e utilizza GNOME 43 come desktop environment. Questa nuova versione porta diverse novità, inclusi diverse novità anche nei tool di Tiles, oltre che miglioramenti in termini di sicurezza e usabilità. Le nuove funzionalità le trovate elencate sul blog, partiamo dal rilevamento degli errori sulla memoria persistente, il montaggio automatico dei dispositivi esterni, la protezione contro i dispositivi USB dannosi, la pass-farse thisware in 5 lingue, l'ho detto bruttissimo perché stanno troppe R e poi l'inglese non lo so, e poi ci sono gli aggiornamenti dei vari software, quindi troviamo Tiles 6.0, Tor Browser che è stata aggiornata la 13.0.10, e aggiornamenti dei vari pacchetti e quant'altro. potete scaricare a Tiles dal link che trovate pubblicizzato sulle pagine del blog, e madonna mia queste pubblicità che mi stanno uscendo qua, chiudiamole, stanno uscendo delle pubblicità indecenti sul, madonna mia attività di morto grande, questo perché l'altro giorno ho fatto una successione, scusate, attivo un attimo la di block sul sito, che delle volte il tracciamento di Google diventa estremamente fastidioso, però voi non disattivate la di block sul blog, perché così, sennò poi povero Marco. Le altre notizie, dicevo, riguardando le altre notizie principali di questa settimana, riguardano il rilascio di KDA Plasma 6, che è la nuova versione di KDA Plasma, basata su QT 6, e finalmente offre Wayland per impostazione predefinita, come sessione predefinita, tante novità sotto al cofano, nuovi effetti panoramica desktop, supporto per l'HDR, il tema Breeze rinnovato, miglioramenti delle impostazioni di sistema, migliorato lo sblocco con l'import digital, vabbè, tante novità che potete leggere sulle pagine dei blog, e che potete dare uno sguardo anche guardando la video recensione, con l'impressione arcade che ho pubblicato sul canale YouTube. E a tra proposito, due notizie collegate al rilascio di KDA Plasma 6, riguardano l'arrivo di KDA Neon, che è stato KDA Neon basato su KDA Plasma 6, perché le liste sono state aggiornate, e sono utili per chi deve fare un'installazione da zero, e poi un piccolo video, nel quale ho passato qualche ora fa, che vi spiega come utilizzare l'effetto cubo su KDA Plasma 6. Infine, l'ultima notizia di questa puntata, riguarda l'ultimo post, l'ultimo editoriale di, anzi, l'ultima guida, postata da Luca per le pagine del blog, che ha postato una guida, riguardante la migrazione da Centro S7, e da Alma Linux 9. Nella guida, lui vi spiega come utilizzare un apposito tool, che serve per poter fare questa migrazione, e andate a leggere, perché è una guida davvero interessante, ed è una guida, che può tornare utile a moltissimi di voi. E con questa ultima notizia, si conclude qui questa 171esima puntata del podcast di Marcos Box, come sempre, potete seguirmi sui principali social, Facebook X, mi trovate su YouTube, mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate con il mio profilo personale, LinkedIn, con quello Mastodon, mi trovate soprattutto su Telegram, con un canale dedicato alle notizie dal mondo di Marcos Box, la community Telegram, che potete utilizzare per parlare di qualsiasi cosa, non soltanto di Linux, e infine il canale Telegram, dedicato alle offerte Amazon, dove troverete una serie di link referral ad Amazon, a prodotti Amazon, che potete utilizzare per supportare il blog. E, come vi dicevo poi in inizio puntata, potete supportare il blog, anche acquistando, rinnovando la vostra VPN, nella fattispecie, rinnovando o acquistando NordVPN. Link in descrizione. Longa vita e prosperità a tutti quanti, ci riaggiorniamo la prossima settimana, con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao.